ha sfruttato l'errore dei centrocampisti sembrava poter aveva la possibilità anche di concludere di prima intenzione senza deliberare il portiere Cervini perché è anche nella zona abbastanza centrale per concludere e poi è bravo in veloce superare e a sapere dove si trova nel senso che è anche molto defilato ha comunque chiuso con il piatto del destro il pallone e l'ha messo in porta per l'1-0. Devo dire Alessio che questa Roma che sta crescendo con tanti giovani di talento. Ultimo tocco in mano del zona di Borchio può cercare ancora due Pjanic e pensa alla conclusione Milan Pjanic e sono due troppo facile per lui però Sì perché come ha aperto la possibilità di guardare la porta ha calciato una punizione in movimento praticamente ha fintato il palo lungo l'ha chiusa davanti a lui segnando un ottimo gol davvero bello di grande qualità Si è da subito però se gli lasci mezza porta per uno con il suo piedino la palla te la mette lì Sì mancava la barriera Ha calciato una punizione senza barriera Un gioco da ragazzi per il talento straordinario di Mila Lempiani e c'è 2-0 Roma Ancora la diversa angolazione secondo me non gli sembrava vero però lui l'ha voluta comunque angolare Pallone Borriella Attenzione a questa iniziativa della formazione austriaca un po' di confusione di rigore e poi c'è il gol dell'1-2 realizzato proprio dal capitano Sertan Gunes forse un po' di ritardo Quasi mi ha intercettato questa conclusione ecco qui rivediamo adesso Qui vediamo il pallone riconquistato da Nural poi questo mucchio selvaggio diciamo così all'interno di rigore risolto dal numero 10 qui rivediamo che trova la giocata Gunes e mette la palla alle spalle di Skorjovski rivediamo ancora adesso con il sinistro sì ancora Gunes non è stata una giocata vero e proprio perché la palla arriva tra i piedi di Gunes dopo un tentativo forse di conclusione di dribbling терbi terbi 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 сл accompagn�도 delонд sono Sicci e sceglia il giro il giro alla giro, la passione della scala. Passiamo la scena verso il giro. Il giro il giro in una spara di caro. È magg adda del giro. Forza di farna di QTS. È un giro. È un giro di ero. Il giro è giro. Il giro il giro è giro. Il giro di un giro. Il giro di una scena del giro. e il risultato